Era solo una questione di tempo. La sistemazione dei ROM a Napoli era una bomba a orologeria per l'amministrazione dei magistris e sarebbe scoppiata comunque. Il processo di trasferimento da Cupa Perillo a Scampia era già cominciato. L'incendio che il 27 agosto ha devastato la zona ha solo accelerato i tempi. L'auditorium e la caserma Boscariello di Miano sono soluzioni temporanee, ribadisce il primo cittadino, nell'aula del Consiglio Comunale. In quel momento l'unica situazione praticabile era quella di una locazione temporanea nell'area nord della Boscariello, ottava municipalità, Scampia, per le ragioni che ha detto l'assessore Acaeta. Sono persone napoletane ormai, 30 anni, e che hanno figli nelle scuole e noi non pratichiamo deportazione. L'opposizione intanto va all'attacco. Mara Carfagna chiede il confronto con i cittadini. Non si può prendere una decisione scavalcando le stanze, i bisogni, le esigenze dei cittadini e del territorio. Fuori dal Palazzo San Giacomo, la portavoce del comitato Miano protagonista si ribella a nome dei suoi concittadini. Hanno presentato una petizione popolare contro l'arrivo dei Rom nella caserma destinata a diventare centro sportivo. Oltre 2000 le firme. Noi vogliamo i Rom, sono esseri umani, sono persone che noi vogliamo accogliere, ma 20, 30, ma non tutti e 300 da noi. Ogni municipalità si prende, dobbiamo fare 300 diviso 10, sono 30 Rom per municipalità. Noi accogliamo i nostri 30 perché poi Miano è un quartiere in ginocchio. Voi sapete bene quello che sta accadendo a Miano, il coprifuoco che c'è a Miano è quello che noi stiamo vivendo. Non è giusto assolutamente che noi dobbiamo essere la pattumiera dell'area nord.